Ciao a tutti, mi chiamo Cristina Gaspa, ho 16 anni e pratico taekwondo da quando avevo 5 anni. La mia categoria è meno 57 e i miei migliori risultati sono stati loro all'European del 21 e quest'anno sono attualmente la campionessa italiana in carica. Ho sentito questo aspetto sportivo perché penso che sia più efficiente sia dal punto di vista lavorativo che sanitario. Volevo fare un grandissimo saluto a tutti gli amici del centro sportivo esercito. Ciao!